ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare un caria cosa srl ultimo aggiornamento 16 marzo 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso avvertenze ingredienti apporto nutrienti immagini prodotti a cosa serve un caria è un integratore appartenente alla categoria degli integratori rinforzanti del sistema immunitario è commercializzato in italia dall'azienda cosa srl informazioni commerciali titolare cosa srl concessionario cosa srl categoria di appartenenza integratori rinforzanti del sistema immunitario forma farmaceutica compressa confezioni un carie 60 compresse 27 c indicazioni naturali difese dell'organismo funzionalità articolare modalità d'uso 1 compressa 2 3 volte al giorno avvertenze il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata seguendo uno stile di vita sano non eccedere le dosi giornaliere raccomandate tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni ingredienti un caria un cariatumentosa bild ex scult dopo cristo corteccia estratto secco 1,2 per cento alcalo idiosindolici 350 mg supportato su un malto destine da mais cellulosa micro cristallina anti agglomeranti magnesio stiarato vegetale silice da bambò bambusa bamboselle boss giovani fusti apporto nutrienti per 1 compressa un caria un cariatumentosa bild ex scult dopo cristo corteccia estratto secco 1,2 per cento alcalo idiosindolici 350 mg fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato